Vescovo Riccardo, oggi è il giorno delle nomine per la nostra chiesa di Arezzo Cortona Sansepolcro. Un momento, ricordiamolo, di chiesa, di comunità. Sì, la chiesa è comunità, è comunione. È un punto d'arrivo, non è di partenza. Quello che serve è puntare sul lavorare insieme, decidere insieme. E questo, se Dio vuole, nei 13 anni che sono stato alla guida di questa diocesi, è sempre avvenuto. E ora ho intenzione, anche queste nomine non sono frutto della mia scelta personale, ma sono fatte sempre insieme con il Collegio dei Consultori del Vescovo. Le ho annunziate prima al Consiglio dei Vicari Foranei e poi alla stampa. Però erano già decise insieme con i singoli parruci interessati, direttamente interessati. Però, per favore, usciamo da questa idea di una chiesa fatta a isole. Semmai è un puzzle dove ci possono essere personaggi coinvolti, realtà che si incastrano una con l'altra, per fare la chiesa retina. Alla fine ciò che conta è essere comunità insieme e quello che conta è vivere la propria fede. Sì, certamente sì. Noi preti si passa, non importa essere grandi o rammentati o pieni di consenso, perché a volte quelli che sono più pieni di consenso sono quelli che poi hanno qualche problemino da farsi perdonare. Grazie.